Ho presentato le liste, in tutte e cinque le circoscrizioni, 47 candidati. Insomma, un bel risultato e comincia oggi ufficialmente la corsa elettorale per le regionali. Ho notato che avete diversi giovani. C'è Moser a Tolmezzo che del 97 potrebbe essere il più giovane? Non so, nelle nostre liste sì, ma abbiamo fatto, insomma, tentato sia dal punto di vista anagrafico sia dal punto di vista di genere di caratterizzare bene queste liste. Mi pare che i territori abbiano risposto.